Il nodo di 16 ha migliorato tantissimo, sotto tanti aspetti, noi già abbiamo benissimo, comunque ci siamo calati nella categoria, basta la qualità, basta anche battagliare, basta sempre capire di stare sempre sul pezzo perché non puoi mai abbassare la guardia perché fai i rischi di fare brutte figure, però è la fortuna che abbiamo un gruppo predisposto al lavoro, sa cosa deve fare, abbiamo un grandissimo maggio di miglioramento Magari qualche gol in più dagli attaccanti arriveranno spero, senti, te giocavi all'attacco, qui un comodo di Juventini, te quante volte l'hai incontrato la Juventus? Loro lo sanno tante volte, l'ho incontrato la Juventus, la Juve ha tantissimo di cose, Ma te l'hai mai battuta la Juve? Sì, l'ho battuta ma ho anche perso tanto, è una squadra che per anni ha dimostrato di essere la squadra più forte, ha dimostrato anche questi ultimi, con che squadra l'hai battuta la Juve? Con la Roma, solo con la Roma, solo con la Roma, solo con la Roma, mi cambica poco, ti ricordi che te ce l'ho? Sì, doppietta di Paolo Sergio e Totti, ti giocavi esterno, quella pace, non era la volta del, no, quella me la ricordo, Quella partita nera ero fuori e così non sono stati andati Quando Totti fece così, eh? No, eravamo dopo Lasciamo Cannelli a te ringraziandola No, eravamo dopo No, eravamo dopo